Siamo una buona squadra, però non possiamo ridurci alla tattica o alla tecnica. La tattica e la tecnica in teoria possono essere le mie cose, ma secondo me dopo qualche anno di esperienze secondo me delle volte arrivano come cose secondarie. Se non arrivi prima sul pallone, se non vinci i contrasti, è inutile che parliamo di altre cose. Quindi secondo me questa è una squadra che è predisposta a fare anche quel tipo di gioco. Non possiamo prescindere da arrivare ai 40 punti e poi andare più… partiamo piano piano, non illudiamo nessuno. Siamo una buona squadra e questo lo sappiamo, ma deve essere uno stimolo, c'è entusiasmo e lo sappiamo, deve essere un altro stimolo, però non montiamoci la testa, camminiamo il profilo abbastanza basso. O il Como o Alessandra, tanto bisogna farle tutte tutte, quindi ormai è la prima partita e quindi la giocheremo al massimo, la giocheremo se vogliamo subito partire bene, perché creare entusiasmo e vincere subito la prima partita in casa secondo me ci dà uno stimolo per fare un campionato, perché se parti già col piede sbagliato diventa sempre più difficile, quindi dovremmo pensare partita e dopo partita, ma iniziando da domenica.